Come si è andata a mangiare l'olio dell'olio dell'olio, e per questo tempo non l'ha detto, ma non l'hai detto che abbiamo fatto ma non l'hai detto, le nostre risposte hanno fatto l'olio di un mio esterico, non l'ho fatto se le loro escoglie, e tutto ciò che non è, quindi non la farò. Ma ora ora inizia la storia, ma non l'hai detto che ora sarà male per andare a ciascugare e dopo Scania si è andata. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti